Ma voi la notate la delizia? No, perché io noto che mi sembra di essere in un cazzo di carcere, mi viene l'ansia, unica finestra, unica fonte di luce con grata, la situazione non mi piace, non mi mette a mio agio, signori questo ovviamente è un divano letto, ma noi avevamo dei dubbi, ma noi non avevamo dei dubbi, ma noi la sapevamo questa cosa, questo disagio, finito. 18 metri quadri, 950 euro, ma noi arrivati a questo punto, a due anni di case d'incubo perché onestamente io non riesco a tornare indietro nella mia vita a quando ho iniziato a fare questa cosa, ma noi ci stupiamo? No, noi non ci stupiamo, basta, cioè, dobbiamo arrenderci come in tutte le cose della vita. Noi ci stupiamo della presenza di questo cesso a incastro con lavaculo? Noi non ci stupiamo, cioè noi andiamo a cagare? Non andiamo a cagare, noi andiamo in castigo esattamente in quel preciso momento. Pensate, 950 euro al mese, ma per non avere neanche un tavolo, ma signori, da oggi è tutto possibile grazie alla crisi presente in questa città, alla crisi del mercato immobiliare e altre crisi, cioè, dove cazzo mangio? Ditemi dove mangio, mangio sul divano, dove dormo sul divano, dove guardo la tele sul divano, dove lavoro, tutto sul divano, beh, top.